L'Italia peggiore, come ci ha definito il ministro comunetta, non ci sta più e anche noi del movimento Il nostro tempo era adesso di Torino, abbiamo preparato un'applicazione per dimostrare come le risorse per effettuare le riforme nel mercato del lavoro e per avere degli ammortizzatori sociali accessibili a tutti ci siano. Volete solamente alcuni esempi? La Voce.info ha valutato il 313 milioni, la maggiore spesa per il mancato accorpamento del referendum abogativo alle ultime elezioni amministrative. Sergio Lizzo ha valutato in 214 milioni di euro le spese per la legge Mancia, la legge che i parlamentari utilizzano per distribuire le pre-vende sui loro territori. Ma non basta. Grazie all'interrogazione parlamentare dei radicari siamo venuti a conoscenza che ben 10 milioni e 117 mila euro sono stati spesi per la polizza sanitaria integrativa a favore dei parlamentari e anche dei loro parenti. Insomma, dateci una mano anche voi a individuare quelli che sono gli sprechi nelle pubbliche amministrazione. Lo potete fare scaricando gratuitamente la vostra applicazione, la trovate sul market di Android e basta cliccare le parole il nostro tempo è adesso. Vedeteci e tutti insieme riprendiamoci il nostro paese. Grazie a tutti.